Sono tante e diverse le cause che hanno ostacolato negli ultimi vent'anni l'apertura del Museo di Totò nel Rione Sanità, quartiere che diede Natale al Principe della Risata. Le hanno scoperte e raccontate in un'inchiesta documentario intitolata Totò Memories i due giornalisti napoletani Carlo Maria Alfarano e Daniela Giordano. Il frutto del loro lavoro, che sarà proiettato il 14 novembre nella sede del Centro Culturale La Città del Sole, è stato presentato alla stampa questa mattina. La ragione per cui noi abbiamo fatto questo lavoro è cercare di fare chiarezza, fare chiarezza soprattutto dal punto di vista delle varie ambiguità che si sono succedute in venti anni di varie amministrazioni e quindi di varie possibilità di gestione del museo, di quello che sarà, si spera sarà, il Museo di Totò. Presente questa mattina anche Anna-Lisa d'Inverno, autrice della tesi che poi è diventata l'inchiesta sul Museo di Totò e che presto diventerà anche un libro pubblicato attraverso il meccanismo del crowdfunding. Questa scelta ricaduta per caso poi è stata portata avanti anche con molto entusiasmo perché è stata, oltre che una materia interessante, anche quasi è diventata un'inchiesta vera e propria. Una sorta di piano, più si andava avanti e più si approfondivano dei dettagli che anche la stampa che diciamo ha usato anche come fonte iniziale ha tralasciato e anche diciamo sono venuti fuori dei risultati anche diversi rispetto a ciò che veniva propagandato nel tempo. Grazie a tutti.